Oggi ricordiamo insieme il decimo anniversario delle attacche dell'11 settembre 2001. Non dimentichiamo le tragiche immagini di quel giorno, ma i ricordi rimasti più impressi nella memoria sono quelli di fiori al cancelli delle nostre ambasciate, dei messaggi di amicizia e di effetto arrivati dall'Italia e da tanti altri paesi. La violenza di pochi estremisti non ha toccato quei principi di libertà e giustizia che sono sempre più diffusi in tutto il mondo e che animano coloro i quali si impegnano per un futuro migliore. Con questo messaggio desidero onorare la memoria delle migliaia di cittadini di oltre 90 paesi, compresi l'Italia, che hanno perso la vita in quel tragico evento. Gli americani vi saranno eternamente grati per la vostra dimostrazione di solidarietà e per ciò che l'Italia fa per difendere gli ideali che uniscono i nostri due paesi. Oggi, dieci anni dopo, questi legami di amicizia sono ancora più saldi. Insieme siamo la prova dell'immensa forza dello spirito umano che ci fa superare grandi difficoltà e guardare al futuro con rinnovata fiducia. E questa è la vera lezione dell'11 settembre.